E salve a tutti e ben tornati in questo nuovissimo video di Insurgency Sandstorm Signorini bentornati bentornati come al solito vi ricordo in descrizione Di andare a controllare perché c'è il disco della commenta italiana Sempre di Insurgency Sandstorm Perché c'è il serverino che io ho offerto e io che organizzano robine Quindi andate lì almeno vedete quando è che ci potete entrare In più c'è pure come sempre Gportal Grazie Gportal sempre per il supporto Ed è proprio grazie a Gportal se io ho potuto offrire il serverino alla community di Insurgency Quindi in descrizione trovate come sempre pure il link del codice sconto del 5% Per prendervi pure voi un serverino di Insurgency Se volete farci qualcosina perché potete impostarci qualsiasi cavolata che voi volete Ora qui c'è uno Che è quello Ah l'ho visto l'ho visto Quanti colpi ho che ho preso con la tamburo Oddio arriva uno Veloce No Che palli I pallini Li odio perché sembrava un cazzo di compagno Era proprio su di lui Vaffanculo Ma non demordiamo Andiamo a vincere pure queste partite Qui c'è il compagno Speriamo quello là non ci muoia Io No ho lanciato la granata Minchia Allora da destra Non sono i compagni Oh sua 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 My friends Let's go A sinistra No 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 Non lo stiamo perdendo L'abbiamo difesa Egregiamente Muori Quanti colpi ho Ok ancora un po' E uso C per abbassarmi Ma non è C Non spara No non ho ricaricato Maffanculo Non l'ha messo il caricatore No Il caricatore Allora da che parte si va Mi perdo io Mi perdo in ste mappe Oh no Non ci vedo Non vedo laggiù in fondo E' tutto facile con l'augo e il mirino bono Eh mastardo Andiamo vediamo Facciamoci valere No Sono usciti insieme Quei bastardi Hanno fatto un due tre Stella E non stai là Non dite che stai là Ora là C'hanno una posizione Tra mega Vantaggiosa Porca troia Ah non passa di lì Però uno qua ci arriva Ecco lo sapevo Vaffanculo Eh vai Continua a sparare Sono morto Oh godo Bastardo Piano piano Ok via 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 Urca Stordito di brutto No è l'ora Ma dai non è vero che non l'ho mai preso No vabbè Ma dai Questo c'aveva l'armor buona Affanculo Che cazzo d'armor c'ho qui scusatemi Pure la corazza pesante Eh porca troia Ora ci schiatti Andiamoci a riprendere Quanto ho? Quanto ho? Ok ancora un po' ci posso fare Spero Credo No 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 Ho sbagliato tasto Devo premere Q Ho premuto anche 2 Qua c'ho tutti i compagni Aia Elevati No da dietro Ah il compagno mi ha ammazzato Eh si Aspettiamoci così Aia Ok Passo da su Passo da su No Dove era camperato sto qui Ma Ma Era lì a sinistra insieme all'altro Ma Hello Hello Che succede? Che succede? Dove è che bisogna sparare? Uh Passo 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 Ok quello c'è morto C'era un altro qui No Aveva una granata in mano Quello Un kamikaze Bastardo Ok quello è morto Bloccato dal nemico Ando cazzo sarà Ok 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 Bono Inchia Eh vabbè La tua mamma Ce n'era bisogno No Rispondo io Loro arriveranno da qua Se non sono lì Credo Spero visto sto controllando Anche se ci arrivano pure i compagni Uh Madonna Morto Oh quello è il compagno Uh Mi sono tolto pure smoke e granate Per poter avere Sti caricatori a tamburo No Frito colpi No Madonna Che roba stavo facendo lì Ma quello Oh Oh Ma Che cazzo spara Eh io premo c Dov'è Dov'è Mal Minchia Aia Che Uh Quella era granata Oh ciao No No Ho fatto lo scattino Ci ha messo 40 minuti a mirare e sparare Oh Salve C'è qualcuno Uh Aiuto C'è qualcun altro Qualcun altro su questo server Dai Che la conquisto Dai che ce la faccio Per vieto Ora scappo Ora corro Nessuno ha visto niente Però Li stiamo arando Anche se sinceramente c'è Non è che stiamo vincendo di Tanto 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 eh Però Ho fatto un partitone Miracolo Mega partitone Credo sia la durata giusta anche come video 32 16 Non male Non male Non male KDD1 Preciso Buono Buono Bella Bella partita Vittoria E niente Che c'è da dire signori Anche per questo video è tutto Una decina di minuti di video Dai ci stanno Una partitella Almeno che Come l'ultimo video Insurgency Era una partitella Una metà E poi quella intera Però Non mi voglio dilungare di troppo Per fare l'altro Come sempre Quindi Signori Vi ringrazio per la visione Vi ricordo di andare in descrizione Sia Per il discord Della community italiana Di Insurgency E anche per Soprattutto Per Il link Del digiportal Se volete comprarvi anche Un serverino Di Insurgency O qualsiasi altro gioco Che hanno messo lì dentro Quindi niente signori Mi spero che anche questo video Di Insurgency Mi sia piaciuto E niente Noi ci si vede Alla prossima Ciao 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 Ciao